benvenuti a tutti io sono pietro oggi vi introdurrò nel mondo di suite relax azienda leader nel settore per la vendita dei materassi suite relax propone materassi innovativi ergonomici ed ortopedici capaci di garantire al tuo corpo un comfort accogliente grazie ai quattro strati di materiali a rigidezza variabile tutti i nostri materassi sono antiacaro e rivestiti da tessuti selia capaci di favorire la circolazione sanguigna autoregolamentare la temperatura e migliorare così la qualità del tuo sogno con l'acquisto di un materasso riceverai in omaggio due cuscini memory per una corretta postura durante il tuo riposo prodotti di altissima qualità tutti made in italy a prezzi imbattibili con possibilità di pagamento personalizzato a partire da 19 euro e 90 al mese a interessi zero senza finanziamento né busta paga inoltre tutti coloro che acquisteranno uno dei nostri formidabili prodotti suite relax riceveranno in omaggio un'utilissima batteria di pentole antiaderente con rivestimento mineral plus antigraffio e resistente a tutti i tipi di lavaggio non ti resta che chiamare il numero in sovraimpressione o contattarci tramite il nostro sito internet o i nostri social sweet relax rilassati dormi riposa